A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia. Come vedete in questa prima slide abbiamo utilizzato anche il lavoro di un'alunna, Marta Riccardi della Terza F, presente su internet. Un sottotitolo trovate in questa illustrazione. Storie d'Italia, malaffare e mistero. Quindi siamo nel 64 quando è ambientato il romanzo, nel 66 quando è pubblicato ed era un periodo in cui c'era il malaffare e quindi diciamo ad esempio la mafia che era collusa con alcuni organismi dello Stato. Ad esempio vedremo un onorevole, la politica. Ahimè, si tratta di qualcosa che era valido, era presente insomma più di 50 anni fa e lo è ancora oggi. Però ecco allora davvero sembrava tra l'altro che lo Stato avesse le armi spuntate contro la mafia. Poi ci sono state delle vittorie, ma come spiegheremo sono state delle vittorie nella battaglia, la guerra non è ancora terminata tra lo Stato e la mafia. Chi è Leonardo Sciascia? È un giornalista, saggista, scrittore e romanziere. Era, diciamo, innanzitutto un insegnante di scuola elementare che poi ha iniziato a pubblicare negli anni 50 dei libri che hanno riscosso un certo successo e questo gli ha permesso di dedicarsi alla scrittura in maniera più completa, più continuativa. Nei decenni seguenti è nato a Racalmuto l'8 gennaio del 21 morto a Palermo il 20 novembre dell'89. È stato anche poeta, drammaturgo, spirito libero anticonformista, lucidissimo e impietoso critico del nostro tempo. Sciascia è una delle grandi figure del Novecento italiano ed europeo. Notevole è stato il suo impegno nel combattere la mafia attraverso i suoi scritti, i romanzi, quello che oggi stiamo commentando, ad esempio, e nel denunciare la corruzione e l'omertà dei politici, in molti casi sotto il diretto controllo dei macchiosi. E lo vedremo, ne parleremo anche oggi. Questo è il precedente nostro contributo video su YouTube sul giorno della civetta, anche in quell'occasione, come vedete, abbiamo utilizzato delle slide trovate in rete e realizzate da alcune alunne. Abbiamo evidenziato qui, in mezzo a tutta quanta la... diciamo... la... come dire... l'opera di Leonardo Sciascia, abbiamo evidenziato i due romanzi dei quali abbiamo fatto per il momento dei contributi video, ma sono in cantiera e in progetto altri contributi video su altri romanzi realizzati da Leonardo Sciascia. Come potete vedere dall'elenco delle sue opere, non ha scritto solamente romanzi gialli, ma anche poesie, racconti, favole, e saggi, poi, soprattutto, molti saggi, e anche molti articoli di giornali su questi tre giornali. A ciascuno il suo è un romanzo giallo di Leonardo Sciascia, pubblicato per la prima volta nel 1966. È il secondo romanzo poliziesco di Sciascia dopo appunto il giorno della civetta. ci sono delle analogie, vedremo fra questi due romanzi gialli. Il titolo è la traduzione del latino di uniquiquessum, frase stampata, o meglio, presa, ritagliata da un giornale, sul retro della lettera minatoria che compare nel racconto ed è un elemento rilevante per l'indagine, come vedremo. più o meno il senso sarebbe questo della lettera minatoria. A ciascuno il suo, rivolto ad un farmacista, rivolto, insomma, a uno dei protagonisti della vicenda. Ecco, ti tocca, adesso ti toccherà la morte per quello che hai fatto, per quello che hai combinato. I personaggi. Incominciamo quindi, però questa volta prendendolo proprio dal nostro sito, a tuttascuola.it, a parlare dei personaggi. Il protagonista del romanzo è il professor Paolo Laurana, professore di latino e di italiano nel liceo classico di Palermo, o comunque della città, la grande città che viene nominata nel romanzo. Viene considerato dai suoi studenti e non solo, anche da altri. Un insegnante valido, molto bravo, preparato, anche se un po' curioso, un po' troppo curioso. La curiosità certe volte si paga, e si paga cara. Molto gentile, a volte timido, per esempio, nei confronti delle donne e scapolo. È deciso ed irremovibile, però un po' testato, una volta che si mette in testa una cosa. Amante dei libri e della lettura in generale, si rivela onesto, ma a volte un po' troppo ingenuo. E questo, come vedremo, gli causerà la morte. A volte triste e pensieroso, è molto legato alla figura di sua madre, la signora Laurana, tanto che vive nella frenesia, il viaggio in cordillera dal paese alla città, pur di tornare a casa e di stare con lei, di stare con sua madre, decide di rimanere a vivere in paese con la madre, piuttosto che trasferirsi in città, dove c'è il liceo, dove deve insegnare, e quindi sobbarcarsi il viaggio in corriera tutti i giorni, abbastanza, come dire, disagevole. Lui che, tra l'altro, non ha la patente, quindi non ha la macchina, anche, diciamo, per la sua, come dire, per le sue incapacità, ecco, non riesce a prendere questa patente. dicevamo, comunque decide di rimanere a vivere con la madre e di non andare in città, quindi a vivere vicino al liceo dove lavora, pur di rimanere con lei e anche di godere un po' di quella atmosfera del paese che predilige rispetto a quella della città. Poi abbiamo il dottor Roscio, marito di Luisa, intelligente e deciso, non si abbatte quando scopre il tradimento della moglie, ma anzi, fa di tutto per ricostruire la loro famiglia, rivolgendosi anche a un deputato comunista. Cioè, praticamente, era riuscito il dottor Roscio a penetrare nella, diciamo, nello studio dell'amante della moglie, era riuscito a fotografare dei documenti che testimoniavano di questo rapporto extraconiugale, avrebbe dovuto consegnare questi documenti e quindi dimostrare anche l'adulterio della moglie, però poi le cose cambiano un po'. Amante della caccia è un uomo tranquillo cui piace leggere e che si comporta da onesto cittadino. Come vedete, anche lo stesso professore Laurana, nel film che è stato tratto da questo romanzo, che è il film A ciascuno il suo di Elio Petri, come vedete, anche il professore conosce questo deputato comunista a cui rivolgersi per cercare di far emergere il malaffare e la corruzione e anche in questo caso il tradimento. Poi abbiamo il farmacista Manno, vi ricordate quello qui era stata rivolta con la lettera minatoria, un uomo per bene che compie il suo lavoro quotidianamente distraendosi una volta alla settimana in quella che è la sua unica passione, la caccia. Su di lui tutti riversano la colpa dell'omicida, no, scusate, non la colpa, più che altro su di lui, cioè, in un primo tempo si crede che l'obiettivo dell'omicida era lui in prima persona di questo farmacista che aveva ricevuto la lettera minatoria. Invece lui è stato ucciso giustamente anche per sviare le indagini perché il vero obiettivo era il dottor Roscio. Questi due personaggi che troviamo in questa slide sono quindi due che all'inizio del romanzo subiscono quest'attentato mortale e muoiono. Poi abbiamo Luisa, la moglie di Roscio una donna molto bella giovane alta slanciata con i capelli scuri la figura della moglie ideale splendida religiosa perché nipote di un arciprete tutti gli uomini del paese sarebbero fieri di averla come propria moglie è però una donna ingannevole e falsa in quanto ha tradito sia la fiducia del marito che poi vedremo quella di Laurana e quindi anche quando mostra ostenta tristezza e contrizione per la morte del marito è falsa l'avvocato Rosello cugino di Luisa e nipote anche lui dell'arciprete quindi come Luisa lo vediamo qui in questa fotogramma del film a destra almeno l'interpretazione di un attore è un uomo spreggevole inizialmente sembra voler aiutare Laurana a risolvere il caso ma lui sapeva bene chi era il mandante dell'omicidio molto ricco finge di accettare la fine del romanzo Luisa come moglie solo per pietà pietà ma tutti quanti in paese tra l'altro che chiacchierano in un modo quasi una narrazione corale quasi alla verga diciamo di questo matrimonio sanno benissimo si rendono conto benissimo che non l'ha sposata per pietà perché una donna bellissima è una donna di cui tutti vorrebbero che tutti vorrebbero sposare altri personaggi sono il paroco di Sant'Anna anche lui è l'unico nel paese che riceve l'osservatore romano il giornale del Vaticano oltre all'arciprete spinto al clero per costrizione a causa di un'eredità è in realtà un uomo simpatico e volubile che conosce tutto di tutti e si diverte a prendere in giro il suo cappellano ad esempio è proprio il paroco che fornisce a Laurana importanti informazioni su Rosello è una parte gradevole questa del romanzo quella dell'incontro insomma fra Laurana che cercava questa benedetta copia dell'osservatore romano e il paroco di Sant'Anna di tutt'altra pasta è l'arciprete che invece rappresenta il clero corrotto è infatti abbiamo già detto zio di Luisa e dell'avvocato Rosello l'arciprete è un uomo che finge molto ricco tra l'altro finge di non sapere la relazione fra i suoi nipoti ma in fondo la conosce da tempo ma chiude un occhio perché la sua come dire carica religiosa prestigiosa oltretutto gli serve solamente come trampolino di lancio per essere uno dei notabili del paese non certamente per un sentimento religioso sincero altri personaggi di minore importanza sono il padre di Roscio gli amici di Laurana Don Luigi il commissario i frequentatori del caffè Romeri che sono pensionati l'onorevole Abello e Benito che si chiama così però non in onore di Mussolini ma in onore di un rivoluzionario socialista abbiamo evidenziato l'onorevole Abello perché all'interno del romanzo svolge un ruolo importantissimo che è quello di mostrare la corruzione dei politici politici che spesso assecondano i progetti violenti le intimidazioni e le esecuzioni perfino dei mafiosi quindi dei potenti del posto ecco sulla mafia Leonardo Sciascia scrisse che cos'è la mafia la più completa ed essenziale definizione che si può dare della mafia crediamo sia questa la mafia è un'associazione per delinquere con fini di illecito arricchimento per i propri associati che si impone come intermediazione parassitaria con mezzi di violenza tra la proprietà e il lavoro tra la produzione e il consumo tra il cittadino e lo stato ecco questi romanzi sono romanzi gialli abbastanza interessanti anche se sono dei gialli anomali perché per esempio il giallo classico vede il trionfo dell'investigatore e non è quello che accade in questi romanzi ma sono anche dei romanzi di denuncia sociale il professore Laurana a proposito di quello che stavamo dicendo prima cioè dei gialli anonimi della sconfitta ecco degli investigatori infatti il professore Laurana di a ciascuno il suo è uno sconfitto nella lotta alla mafia come e più del capitano Bellodi del giorno della civetta l'altro romanzo che abbiamo recensito in cui abbiamo visto che alla fine il capitano Bellodi è stato trasferito al nord visto che si stava intrufolando troppo e aveva messo come dire messo in prigione nel mirino volevo dire il più importante personaggio mafioso del posto che era in sostanza il mandante di alcuni assassini dicevamo come è più perché il capitano Bellodi è stato solamente trasferito mentre il professor Laurana lo possiamo già dire l'abbiamo già detto anche prima sarà ucciso forse a quell'epoca negli anni 60 i tempi non erano ancora maturi non c'era ancora Falcone e soprattutto il pool antimafia che porterà al maxiprocesso comunque al di là della finzione sappiamo che molti hanno sacrificato la vita per una guerra che comunque non è ancora vinta definitivamente anche se ci sono state delle battaglie vinte dallo stato abbiamo ricordato il maxiprocesso la guerra è ancora in corso ecco attenzione da adesso in poi cominciamo a parlare della trama del romanzo quindi invito quelli che possono essere già stati stimolati da me da tutto quello che ho detto a leggere il romanzo e poi magari ritornare sulla trama da questo momento in poi perché insomma vi racconterò un po' tutto quanto il romanzo per il fine didattico che essenzialmente è alla base di tutti i miei contributi sul web la trama del romanzo nell'estate del 1964 il farmacista Manno riceve dal postino una lettera anonima che lo minaccia di morte è quella lettera famosa in cui c'è quel ritaglio di giornale dell'osservatore romano uniquiquessum a ciascuno il suo uomo tranquillo estraneo alla politica è in grado di avere un rapporto sereno con chiunque e lì si meraviglia molto dell'accaduto infatti anche la moglie è stupita non ha nemici non ci sono motivi di vendette insomma contro questo farmacista l'unica cosa che si può dire è che effettivamente forse almeno gli investigatori all'inizio cercano disperatamente un movente e quindi indagano su un eventuale rapporto extraconiugale del farmacista Manno che in realtà non c'è stato Manno ha come unico divertimento la caccia quindi stavamo dicendo la minaccia di morte questo farmacista spiega a degli investigatori di essere stato minacciato però le prime ricerche non portano assolutamente a nulla nascono dei sospetti legati a questa passione della caccia senz'altro qualcuno magari invidioso perché era un cacciatore molto bravo spesso tra i cacciatori c'è invidia per quelli che sono più bravi e fortunati degli altri ma tutto sommato stringi stringi non ci sono motivazioni sufficienti per una minaccia di morte quindi Manno è convinto che si tratti di uno scherzo causato dall'invidia di alcuni suoi colleghi cacciatori che poi comunque non arriverebbero mai a farlo fuori e invece poi le cose precipitano ah qui vedete una fotogramma del film a ciascuno il suo di Elio Petri del 1967 cioè è uscito nelle sale cinematografiche un anno dopo la pubblicazione del libro come vedete il protagonista del romanzo il professor Paolo Laurana è interpretato da Gian Maria Volontè sappiamo che è un attore che spesso ha interpretato dei ruoli importanti in questi film di denuncia sociale mentre Luisa Roscio che sarebbe appunto la moglie di Roscio il dottore assassinato e amante dell'avvocato Rosello è interpretata da Irene Papas una sera però quindi Manno ormai è passato anche un po' di tempo ha minimizzato la minaccia di morte una sera però dopo una battuta di caccia viene ucciso insieme a uno dei suoi cani e soprattutto insieme all'amico il dottor Roscio gli inquirenti cercano quindi di risolvere la causa del misterioso omicidio di due persone apparentemente tranquille e perbene essi pensano che tutto sia stato causato come vi ho già anticipato da una relazione che Manno aveva con una frequentatrice della farmacia ma alla fine questa ipotesi si rivela errata sulla scena del crimine si notano però resti di ceneri lasciate da un sigaro di marca branca un sigaro giallo e nero di marca branca tra l'altro il professore sa queste due notizie queste due informazioni cioè che l'assassino ha lasciato cenere di questo sigaro di marca branca e che in precedenza nella lettera minatoria c'era questa scritta uniqui quesum proveniente appunto dal giornale del quotidiano del Vaticano l'osservatore romano ecco a questo punto che accanto alle indagini sterli inutili della polizia c'è qualcun altro questo professore curioso dicevamo questo professor laurana che incomincia le sue indagini personali attratto dall'uniquique che nota scritto con lettere ritagliate dall'osservatore romano sul retro della lettera anonima incomincia ad indagare seguendo una pista diversa concentrandosi quindi più sul dottor roscio che non sul farmacista manno come invece avevano fatto gli investigatori la polizia eccetera si tratta senza ombra di dubbio di un ritaglio dicevamo ricavato dall'osservatore romano che in paese ricevano solo due persone il parroco di sant'anna e l'arciprete il professore laurana basandosi proprio sull'uniquique suum che significa a ciascuno il suo imbocca la strada esatta il farmacista non c'entra niente in quanto la sua uccisione serviva solo per portare fuori strada le indagini infatti era il dottor roscio il vero bersaglio dell'agguato aiutato da alcuni personaggi essenziali quali appunto il parroco di sant'anna che aiuta laurana e anche l'arciprete però abbiamo detto l'arciprete non perché davvero voglia aiutare laurana ma perché alla fine si capisce che insomma quella scritta era stata ritagliata dalla copia dell'osservatore romano dell'arciprete che era lo zio abbiamo detto sia dell'avvocato rosello sia di luisa roscio grazie anche all'aiuto del padre di roscio ed alcuni suoi amici riesce laurana a capire come stanno le cose il dottor roscio aveva scoperto la relazione che sua moglie luisa aveva con suo cugino l'avvocato rosello come vedete interpretato nel film dall'attore gabriele ferzetti questa relazione continuava da anni il dottor roscio praticamente questo è stato un po' il suo il suo guaio il suo sbaglio volevo dire il suo errore praticamente fa capire all'avvocato rosello che aveva in mano le prove di questo tradimento lancia un ultimatum a rosello e quindi l'avvocato reagisce facendo uccidere il dottore da un sicario l'ultimatum infatti prevedeva che se non fosse terminata la tresca con sua moglie roscio avrebbe fatto scoppiare uno scandalo sulla base di documenti compromettenti personalmente procuratisi in un giorno di assenza dell'avvocato quando c'era diciamo così un impiegato dell'avvocato che aveva il compito tra l'altro di vigilare ma che non riesce a impedire a roscio di fotografare questi documenti compromettenti laurana si propone di tenere per sé i risultati della sua indagine continuando per la sua strada ma non ci riesce in quanto viene sedotto ed ingannato dalla bella Luisa che in accordo col cugino vuole liberarsi della pericolosa testimonianza che avrebbe potuto costituire il primo incontro con Luisa era avvenuto al cimitero dove Luisa recita la parte della moglie fedele al marito morto il secondo incontro avviene sulla cordiera ed è in questa occasione che Luisa riesce a confondere l'idea a laurana convincendolo che anche lei sta indagando su rosello mentre come abbiamo spiegato insomma in realtà era in combutta con rosello questa seduzione appena accennata nel libro divene un vero e proprio flirt nel film e come abbiamo visto anche in questa scena in questo fotogramma e nella stessa locandina del film alla fine di questo incontro sulla corriera quando sono scesi anche nella piazza della città Luisa invita Paolo la sera seguente a caffè Romeris dove gli avrebbe portato le prove del coinvolgimento di rosello nell'omicidio del suo marito cioè Luisa si mostra sinceramente abbiamo già spiegato contrita ma in realtà è falsamente contrita è ancora legata al marito in realtà non lo era affatto per niente e dice che in quei due giorni l'avrebbe cercato le prove che avrebbero incastrato definitivamente l'avvocato rosello e poi gliel'avrebbe portate la sera successiva a questo in questo caffè Romeris alle sette alle diciannove ci sarebbe stato l'incontro e il professore Laurana dopo aver fatto lezione al mattino regolarmente ed essere andato al ristorante poi la sera si era leccato in questo caffè Romeris aveva detto a sua madre che ci sarebbe stata una riunione che sarebbe tornato tardi in realtà questa riunione diciamo scolastica non c'era era tutta una scusa perché Luisa gli aveva chiesto di trovarsi con lui in questo caffè Romeris ecco arrivato lì alle sette meno un quarto Paolo Laurana incomincia ad attendere Luisa con una certa trepidazione sono presenti tra l'altro lui frequentava questo caffè Romeris che un tempo era rinomato però lo frequentava di giorno di mattina non aveva mai frequentato di sera gli altri avventori infatti si stupiscono un po' dell'ora tarda insomma in cui trovano durante la quale trovano Paolo Laurana in questo caffè sta di fatto che è molto nervoso Paolo Laurana perché alle sette non arriva Luisa e non si fa vedere neanche nelle due ore successive e continua a mostrare la sua impazienza e anche se gli avventori fanno dei discorsi anche che in altre occasioni sarebbero stati interessanti per lui lui invece si mostra impaziente e certe volte anche cerca di sbirciare ad esempio la strada al di fuori del caffè per vedere se finalmente arriva Luisa Luisa non si presenta intorno alle 21 alle 9 ormai è quasi ora di prendere il treno per tornare al paese perché è l'ultimo mezzo con il quale ritornare a casa e quindi anche con un certo anticipo comunque il professore lascia il locale e si dirige verso la piazza della stazione ma qui proprio la svolta della piazza della stazione viene fermato da perché lo sorpassa un'automobile poi si ferma 10 metri davanti a lui con una fermata brusca torna indietro e l'autista di quest'automobile che lui riconosce come un uno del suo paese gli offre un passaggio in macchina e quindi lui accetta suo malgrado questo passaggio perché è convinto di poter così ritornare prima a casa magari telefonare a Luisa e chiederle come mai non era arrivata all'appuntamento questo passaggio da questo individuo non meglio precisato perché l'aveva già visto in paese ma non sapeva il suo nome e cognome si rivelerà fatale alla fine infatti il professor Laurana viene ucciso anzi trovato in una sorta di miniera se non sbaglio una solfatara il suo cadavere è come dire travolto dalle pietre sommerso da queste pietre viene rinvenuto il giorno il giorno seguente e come stavamo spiegando la morte di Laurana comunque non viene descritta in maniera diretta ma attraverso le chiacchiere della gente del paese nel capitolo successivo a questo punto Rosello l'avvocato e la vedova Roscio Luisa la sua cugina si sposano e quindi raggiungono il loro obiettivo quell'obiettivo che avevano già da tempo perché l'unico ostacolo che si era frapposto appunto Paolo Laurana è stato tolto di mezzo come vedete il finale di questo romanzo è un finale amaro un po' nero se vogliamo nel senso che trionfa il male ancora una volta come nel giorno della civetta questi prepotenti questi mafiosi come appunto l'avvocato Rosello e anche la sua amante ex moglie di Roscio alla fine trionfano e si capisce quindi che quell'appuntamento dato al caffè Romeris era tutto un inganno e che il professore è caduto nel tranello e quindi inutilmente la mattina seguente dalle 6 di mattina sua madre si è presentata al commissariato di polizia per chiedere informazioni di suo figlio perché come abbiamo spiegato il figlio è stato ucciso a questo punto dicevamo una volta passato l'anno è perché sapete com'è bisognava anche seguire un po' quelle che erano le consuetudini passato un anno dalla morte del marito la vedova si risposa con con Rosello e come stavamo spiegando questo viene presentato come un gesto di pietà di Rosello ma in realtà non è altro solo il coronamento di questo loro piano criminale concludiamo questo nostro contributo con una frase che ha scritto lo stesso Leonardo Sciascia che è molto significativa nel senso che ci rimanda un po' al titolo del romanzo come a dire quindi che laddove c'è la prevaricazione laddove c'è la violenza ognuno poi ha la pena insomma di questa sua curiosità ad esempio nel caso di Laurana o anche della loro addirittura della loro onestà ecco perché dicevo un po' amara la conclusione l'onestà del farmacista e del dottore che vengono fatti fuori del professore che è fatto fuori anche lui tutto questo nella logica perversa di questi mafiosi questo concetto di a ciascuno il suo infatti ha scritto Leonardo Sciascia il nome di uno scrittore il titolo di un libro possono a volte e per alcuni suonare come quello di una patria lui siciliano profondamente ostile a questo modo di essere insomma a questa condizione volevo dire della Sicilia così perversa a causa di questo gioco di questo stretto legame fra mafia e politica infatti non abbiamo detto ma Laurana a un certo punto aveva quasi abbandonato le indagini quando gli era capitato di incontrare un tribunale semplicemente per il fatto che lui era andato per una insomma per una richiesta di un di un documento per poter cercare quantomeno di fare la patente aveva incrociato l'avvocato rosello aveva incrociato quell'onorevole di cui abbiamo parlato prima e insieme a loro aveva incrociato anche un terzo personaggio il quale aveva dei sigari di quella marca branca gialli e neri esattamente come quelli che aveva usato l'assassino il sicario questa era la dimostrazione che l'onorevole accompagnato da questo killer era perfettamente in combutta con l'avvocato rosello quindi con il mafioso anzi forse aveva lui stesso procurato a rosello il killer per uccidere Roscio e il farmacista Manno quindi dicevamo si sente siciliano e risente di questo e di questo risentono anche i titoli abbiamo già spiegato il significato del titolo di questo romanzo i titoli dei suoi libri ma questo Leonardo Sciascia lo vive senz'altro come un peccato originale chiamiamolo così ma vuole denunciare questo peccato originale cioè vuole denunciare questo malaffare vuole denunciare questo intreccio perverso dicevamo di mafia politica e anche se vogliamo di malcostume e immoralità di tradimenti insomma e lo fa io credo in un modo molto interessante attraverso questo romanzo che invito quindi tutti quanti a leggere a leggere a leggere Grazie a tutti.